Stavo vicino a firmare con il team di Petricca quando una sera su Facebook mi scrive Genesio bevi l'acqua Così Se non hai niente da fare i romani vieni da noi che parliamo Arrivo da Genesio e dico tu vuoi correre? E io voglio correre, certo e voglio correre Insomma mi ha proposto subito un contratto, siamo andati La domenica dopo mi ha portato a fare il primo test Peraltro non era pronta la stocca quindi Genesio ha tirato fuori un superbike E mi ha fatto guidare a Vallelunga Perché ne ha poche poi Sì Genesio ha questa problematica che non reperisce la moto Cioè quel piccolo box garage chiamato moto dei miti Ricordo che mi diede una tuta di Shaky Byron Mi fece fare questo test Sono andato abbastanza forte a Vallelunga Da lì poi è arrivata la stocca, ha preparato la squadra per me E il resto è storia È storia